Abbiamo già risolto tutti, quindi la coppia sarà Pardelli e Pargoni. Quanto ormai è diciamo 10 anni. Ci sarà necessario per chiedere la magistratura? No, 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 ci sarà necessario. Ci ha trovato tutto, vai, vai, vai. Quanto è stato difficile arrivare a formare questa coppia al di là delle vicende tra i due quartieri? Come tutte le cose a volte ci sono delle problematiche che vanno risolte, quindi l'importante è trovare poi la soluzione.